Mi trovo oggi a sostenere l'accusa, perché c'è qualcuno che deve comunque rivestire il ruolo, ma probabilmente l'accusa, nel senso dell'affermazione della responsabilità per le leggi dell'epoca di Honora de Fonseca Pimentel, è la più rispettosa di questa donna, perché se laddove si toglie a questa donna il significato del suo sacrificio, il significato della sua attività, della sua lotta, significa disconoscere e farle oggi una cattiva pubblicità, un cattivo servizio, non renderle l'omaggio di quello che ha fatto, di sacrificio per la quale ha immolato la sua vita, per la patria. Quindi un modo diverso, una rivocazione storica per parlare della violenza sulle donne? È violenza sulle donne, ma in questo caso è una donna che è protagonista della sua vita, del suo tempo e della storia. È una giornalista innanzitutto, è una vostra collega, ed è una giornalista che vuole informare il popolo. Purtroppo tutto questo all'epoca era reato e possiamo dirlo, anche oggi è reato, buona parte delle condotte che ha assunto Leonora de Fonseca Pimentel erano reato all'epoca e lo sono tutt'ora. La lesa maestà oggi si chiama in maniera diversa, ma continua ad essere prevista nel codice penale, d'altra parte non si potrebbe cancellarla. Nella lotta per l'indipendenza è Leonora, Lenore come veniva chiamata, a un posto di primo piano, anche se dopo il processo ci fu una dammanazio memorie da parte della Casa Reale, tant'è che Leonora stava per essere trasferita in Francia, per essere allontanata dal regno e fu la regina in persona che non volle che partisse e quindi fu processata e poi condannata con una pena capitale che praticamente era già scritta. Che cosa resta di Leonora? Intanto è stata la prima donna a fondare e a dirigere un giornale, quindi un'antesignana nella storia anche del giornalismo, è stata una donna che ha lottato per la libertà, ha lottato per la Repubblica, in un momento particolarmente difficile, in un momento in cui vigeva l'assolutismo reale. E' stata scelta questa rievocazione di questo processo proprio in concomitanza della giornata per i diritti delle donne. Lei è un esempio proprio per le donne per continuare a lottare per i loro diritti. Certo, lei è un'antesignana, dopo di lei ne sono venute altre, io ricordo soltanto Enrichetta Di Lorenzo, la compagna di Carlo Pisacane, ma siamo già negli anni 40 dell'Ottocento, quindi voglio dire, è stato un capisaldo di questa storia, quindi questa storia delle donne che tanto hanno combattuto e combattono ancora per la loro emancipazione. Grazie. Eleonora De Fonseca Pimentel, prima di essere condannata, disse una cosa importante, disse forse gioverà ricordare questa storia in futuro e questo stiamo facendo. Stiamo ricordando questa storia che era la storia di una donna condannata, io dico ingiustamente, al patibolo per le sue opinioni, per aver difeso la sua terra e i suoi cittadini, per essersi messo contro dei monarchi che avevano tradito la loro inclinazione, nella loro storia, perché i Borboni erano considerati dei monarchi illuminati. Quando poi, dopo la rivoluzione francese, con la morte della sorella, della regina Carolina, moglie di Federico e di Ferdinando, dopo questo evento ci fu un'involuzione della attività e della storia dei Borboni, che diventa una monarchia reazionaria, alla quale giustamente si oppose la Pimentel, ma non perché la Pimentel aveva cambiato idea o era diventata volta cabana, è che i monarchi e i Borboni ci cambiano idea. E quindi io ritengo che fu ingiustamente condannata e questo portò poi alla condanna storica dei Borboni, che dopo pochi decenni sono stati abbattuti, sono stati giudicati per l'ignominia che avevano commesso durante la Repubblica Napoletana nel 1799, nella quale vollero trucidare centinaia e migliaia di nobili, non solamente gente normale, i cosiddetti lazzari o i cittadini, ma furono giustiziati decine e decine di nobili illuminati, furono giustiziati vescovi, giustiziati avvocati, professionisti, tutta una classe dirigente che, secondo i Borboni, erano stati filo francesi e che avevano portato quindi un attentato. Forse era meglio che avremmo fatto un convegno su un altro genere, che avremmo parlato di turismo e di accoglienza. Purtroppo oggi ancora se ne parla, forse erano episodi che sono sempre accaduti in passato, oggi con le televisioni diciamo che siamo meglio informati. Però questo non significa che è un fenomeno che va debellato, come la violenza sui minori, anche la violenza sulle donne, che purtroppo ancora accadono e che secondo me ci vorrebbe delle regole più precise. È vero che qualcosa si è fatto in passato, qualche legge è stata approvata, però purtroppo gli episodi continuano, sono in aumento. Secondo me ci vorrebbero pene più severe, ci vorrebbero che quando le donne già all'inizio si rivolgono alle forze dell'ordine, forse ci vorrebbe maggiore attenzione, allontanare questi individui. Ripeto, ci vorrebbe una legge un poco più precisa. Cioè queste persone vanno allontanate dai luoghi e non è possibile che quando succedono degli episodi addirittura vanno in carcere per pochi giorni, per qualche mese, poi il pericolo addirittura per le donne aumenta. Siamo ancora lontani dalla, tra virgolette, normalità. Lei appunto è stata una delle prime, intanto è stata la prima donna direttrice di un giornale e poi una donna fortissima che aveva una sola fede e la sua fede era che le cose potessero cambiare, che le cose fatte lasciano il segno e che questi segni sono leggibili dalle generazioni future. Ecco, questo secondo me è uno, come dire, sono le parole più belle che lei potesse usare e queste parole le ha addirittura usate quando era l'alla per essere messa al patibolo. Credo che questo sia l'insegnamento in assoluto che non può che farci del bene. A noi come donne e a voi come nuove generazioni. Ecco, è su questo che dobbiamo tutti quanti insieme fare una riflessione comune. Grazie.